Trasformare la vecchia stazione di Ponte Cagnano in un centro di innovazione sociale e culturale, un centro per favorire la sostenibilità ambientale, il volontariato e gli scambi europei tra giovani, ma anche per proporre ai cittadini una nuova visione di mobilità, per promuovere le bellezze del territorio e un turismo slow orientato all'uso di trasporti rispettosi della natura, come la bicicletta o il treno. Il progetto del circolo Lega Ambiente Occhi Verdi trasformerà così la stazione da non luogo a bene comune per consentire produzioni culturali destinate soprattutto ai giovani. Tra gli obiettivi la tutela e conservazione ambientale, paesaggistica e storico-culturale con la creazione di un'offerta turistica di qualità. L'inaugurazione della Grey Station rientra tra gli eventi delle due giornate di festa ambiente Beni Comuni che Lega Ambiente ha organizzato a Ponte Cagnano il 22 e il 23 giugno. L'inaugurazione della Grecia